eccoci qua di nuovo in diretta eh per la notte di mezzo a lui nel passaggio abbiamo iniziato il trento d'ottobre finiremo a gennaio dopo la Befana con le nostre conferenze online ogni sera un argomento diverso e ogni sera facciamo questo viaggio nella terra di mezzo anzi nella notte di mezzo però notte di mezzo includiamo tutto un mondo che sta al confine al confine tra realtà e fantasia tra realtà e mito quindi una una zona da tutta da esplorare da esplorare non sempre con la razionalità anzi affidandosi un po' all'immaginazione all'intuito e anche al sogno allora buonasera Luigi Pruneti benvenuto questa sera di nuovo nostro ospite eh graditissimo anche perché ci porta sempre degli argomenti molto stuzzicanti come quello di questa sera che eh sono le l'enigma delle torri maledette un titolo pesante Luigi eh sì un titolo molto pesante e direi uno dei miti più neri di tutto il comparto esoterico uno dei più oscuri sicuramente perché si parla delle dimore del male e iniziando questa carrellata tra le sette torri del diavolo eh io vorrei partire proprio da quando emerse questo mito a una data ben precisa il 1935 in quell'anno infatti Genon sulla rivista Etude Traditionnelle eh pubblicò una recensione di un libro di Seaborg avventure in Arabia chi era Seaborg un personaggio alquanto particolare controverso eh basta basti pensare che lui si mh vantava di aver partecipato in eh eh Liberia a un pranzo fra cannibali a base di carne umana eh fra l'altro si vantava di praticare sadismo sessuale di fatti viaggiava sempre con fruste e catene e fu amico e ospitò nel 1919 in California il famoso Alistair Clowley personaggio dunque particolare morì nel 1945 completamente disfatto dall'uso di eroina questo non toglie che sia stato un personaggio molto noto giornalista di reportage di viaggi e considerato uno degli ultimi esploratori tra l'altro aveva scritto un libro la magica isola dove parlava di di Haiti ed è il primo a parlare di voodoo e di zombie in questo libro eh Seaborg eh narra di un suo viaggio nel vicino oriente e di aver visitato nelle prossimità di Mosul il tempio degli esidi sormontato da una cupola conica e gli dice che gli esidi sono appunto come noto adoratori del diavolo e che quel tempio era uno delle sette torri del diavolo o del potere che andavano dalla Manciurea fino appunto al Kurdistan ma eh guardiamolo un po' questo libro eccolo qui questo naturalmente è una ripubblicazione anastatica sempre in lingua inglese di qualche anno fa è facilmente ehm tra l'altro reperibile anche su Amazon eh ma all'interno vi erano foto ad esempio che allora erano scandalose come questa donna di scinta nuda e a un certo punto egli presenta anche questa famosa torre del diavolo eccola qui questa foto di allora come vedete in effetti a forma conica e con queste scanellature Guenon cosa dice di questo libro? Guenon contesta che gli esidi siano adoratori del diavolo ma afferma che quella torre in effetti era frequentata anche da maghi neri da strani personaggi ed era in effetti una delle sette torri che rappresentavano i centri di un potere antiniziatico e antitradizionale dunque del male erano come dei poli del male che spandevano la loro nebbia nera sul pianeta. Sulle sette torri del diavolo Guenon ritornò più tardi e soprattutto nell'epistolario scrivendo numerose lettere che toccavano l'argomento. La più celebre del 1936 fu indirizzata a Vassili Lovinescu che aveva lo pseudonimo di Geticus e l'ultima di queste lettere del 1949 è indirizzata a Iulius Evola. Inoltre ne accennò anche in una sua opera il regno della quantità e il segno dei tempi. Guenon fra l'altro nei suoi scritti colloca le torri del diavolo, dice dove si trovano e spiega anche perché sono in quei luoghi. La prima appunto sarebbe questa la torre degli Ezidi che si trova alle pendici del Jebel Sinyar dunque nel Kurdistan non lontano da Mosul in territorio di Ezid. Gli Ezidi sono chiamati dai musulmani Shetan Perest che vuol dire appunto adoratori del diavolo e sono considerati così anche da cristiani, da drusi e da altre comunità religiose della zona. In realtà non è proprio così. La religione yesida, poco studiata fra l'altro, è una religione sincretica che ha elementi tratti dai mandei, dal mitraismo, dalle culti iranici dualisti, dall'islamismo e dal cristianesimo. La loro principale divinità oltre al Dio creatore è il cosiddetto angelo pavone, Malak Tavus. L'angelo pavone è identificato però con Iblis, che è il diavolo che è Satana per i musulmani. Nella tradizione, nei testi sahri-ezidi che sono raccolti in questo libretto pubblicato da Giuseppe Furlani, i testi religiosi-ezidi, nei loro testi appunto, soprattutto nel libro nero, si racconta la storia mitologica di questa religione. In pratica il loro fondatore Sayyadi ibn Mustafa ebbe una rivelazione che apparve appunto l'angelo pavone, una sorta di demiurgo, che gli spiegò come stavano le cose. In pratica l'angelo pavone era la maggiore creatura angelica dopo il Dio creatore. Ed egli cosa fece? Si comportò come il serpente nell'Eden, cioè indusse Adamo, non Eva, a mangiare il frutto proibito, che per loro non era un pomo, non era un frutto, ma era il frumento. Soltanto Malactavus fece questo per pietà nei confronti dell'uomo perché aveva pietà della condizione umana, dell'uomo destinato alla morte destinato al nulla. Naturalmente dopo aver compiuto questo atto di disobbedienza si pentì amaramente e pianse, 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 preso dal pentimento per un periodo di tempo lunghissimo e alla fine il Signore lo perdonò. Però egli con quest'atto di disobbedienza come prometeo che donò il fuoco agli uomini, egli aprì la strada per la salvezza dell'umanità. La religione degli esidi è ben strana. Hanno per esempio delle proibizioni alimentari particolarissime. Non possono mangiare lattuga, né pesce, né fagioli, né carne di gazzella o di cammello. Possono mangiare solamente carne di animali del loro sesso, perché una donna potrà mangiare carne di un animale femmina e l'uomo di un animale maschio. Hanno anche delle caratteristiche, portano, gli uomini portano i baffi e nessuno si veste con un colore blu scuro perché è da loro odiato. Da cosa è dettata la loro cattiva fama? Prima di tutto dal fatto che è una organizzazione, una società endogamica e dunque completamente chiusi agli altri. Tra l'altro si trovano in una delle zone più tormentate della terra e in una delle zone anche più discusse. Vicino a loro c'è Mosul. Mosul sorge sull'antica città, sulle rovine della città di Ninive. Dunque siamo nella capitale dell'antico regno degli assiri di questo popolo guerriero e sanguinoso. Tanto è vero, se ci pensate bene, che anche Platti, quando scrisse il suo capolavoro, l'esorcista, fa iniziare la storia proprio in questa zona, nelle vicinanze di Mosul. È lì che viene scoperta la statua del demone Pasusu. Dunque la prima torre del diavolo è legata a questo culto così particolare e così mal visto da tutti i vicini di casa. La seconda torre si trova sempre nel vicino oriente, nelle prossimità del Kurdistan. Sul monte Hermon, quel massiccio montuoso che raggiunge l'altezza di 2814 metri e che è posto al confine fra tre stati, fra Libano, Israele e Siria. Cosa ha di particolare questo monte? In primo luogo i cananei lo consideravano la montagna sacra di Baal, la dimora del dio Baal e in secondo luogo negli scritti pseudo vetero testamentari, mi riferisco al libro di Enoch e al libro dei Giubilei, si narra un episodio accennato anche nella Bibbia in Genesi 6.1.14. Si narra cioè che sul monte Hermon scesero i duecento angeli vicinanti che erano guidati da Semi Yasa e lì fecero il giuramento di accoppiarsi con le donne degli uomini e da questo accoppiamento nacque la razza dei giganti, la razza anomala dei giganti e inoltre essi insegnarono alle donne tutte le arti oscure a iniziare dalla magia e dunque il monte Hermon e la torre del monte Hermon, la cosiddetta torre, poi sono torri virtuali, non sono edifici esistenti forse quella che abbiamo visto precedentemente è legata a un dettato biblico e pseudo biblico. La terza torre si trova in Africa più a sud nel Sudan su un altro monte, il monte Nuba. Siamo nel Kordofan in una zona semidesertica e in una zona anche estremamente poco ecumenica. Secondo gli arabi e gli egiziani era una terra popolata da esseri infernali, i gin e i ghoul. Genon nel Regno della quantità e il segno dei tempi, dunque una delle sue opere maggiori e in quella lettera Geticus alla quale ho già accennato racconta che la zona sarebbe abitata da una tribù di licantropi addirittura. La licantropia nella figura dell'uomo leopardo ma c'è anche l'uomo leone, l'uomo coccodrillo eccetera eccetera è molto diffusa in Africa ma non solo in Africa era molto diffusa anche da noi la figura del lupo mannaro di cui abbiamo parlato l'anno scorso se non erro è estremamente diciamo è planetaria, si trova ovunque è legata agli antichi culti animisti e totemici in Africa ha avuto una storia più lunga perché l'animismo e il totemismo sono vissuti, sopravvissuti più a lungo. Diciamo che poi le vicende recenti legate agli uomini leopardi si inserisce in una situazione di decolonizzazione e di repressione dei primi movimenti di liberazione africani proprio come rivolta nei confronti del gioco europeo. Ma come mai questa terra è così deputata al nero per Guénon? Lui dice che quella terra ha le stigmate del male da tempi remoti perché da quelle parti si trovavano in fondo nell'alto altissimo Egitto si trovava Ombos. Ombos era la città dove nacque il culto di Seth, l'unica divinità nera del pantheon egiziano. Seth è una delle divinità originarie ed è quello che uccide il fratello Osiride e dunque crea uno dei primi miti non solo dell'uccisione del fratello, del tradimento, della deposizione, dell'inganno perché Seth uccide Osiride attraverso l'inganno invitandolo a un pranzo, a una cena, a un convivio. Seth era per gli egiziani, l'aspetto negativo dirà, era il sole che uccide, il sole che elimina ogni possibilità di vita, il sole che asciuga, che crea l'arsura, il sole che è rappresentato dal deserto e Seth era la tempesta di sabbia che veniva appunto dal deserto libico e dove passava, distruggeva tutto, ogni forma di vita. In seguito i greci associarono Seth a Tifone e ancora dopo Tifone fu associato a Sorat. Sorat sarebbe il demone dei cabalisti, il cui nome scritto in ebraico e conteggiato, sapete che ogni lettera dell'alfabeto ebraico rappresenta un numero, darebbe anch'esso il 666. Sorat rappresenta appunto il sole che uccide anch'esso e questa tradizione antichissima del sole maledetto è giunta fino a noi con la figura medievale del demone, del demone meridiano e della controra che ancora è presente nel nostro sud, ma non solo nel sud. Sarebbe il demone dell'accidia, il demone delle passioni erotiche smodate che si muove appunto quando il sole è a picco sull'orizzonte e sembra non volersi più muovere nell'ora incerta fra il mattino e il pomeriggio, fra il sorgere e il tramontare. E poi dopo della terza torre naturalmente ne troviamo in Africa una quarta. Si trova nel Niger ed è difficilmente individuabile, però è legata a un personaggio storico, a un Napoleone dell'Africa, a Sonny Ali Ber, signore del Songhai. Siamo nel quindicesimo secolo. Sonny Ali Ber è un personaggio particolarissimo perché sembra che a un certo punto, egli era musulmano, rinnegò la religione del profeta per ritornare ai culti totemici e animisti dei suoi antenati. Tra l'altro il padre era stato un re tribale, stregone. E dopo aver rinnegato il profeta con un grande esercito cominciò a conquistare un impero incredibile. Nel 1468 conquistò la Roma del Sud, Timbuktuq e nel 1466 iniziò a assediare Giana, una città che era una città sacra per l'Islam, una città che non poteva cadere in mano di un infedele, di uno che aveva rinnegato il profeta. Ebbene, egli, i Sonny, la sediò per sette anni, sette mesi e sette giorni e alla fine la conquistò e uccise tutti i mullah, tutti gli uomini di culto religiosi, islamici, tutti i marabutti, invece una vera e propria strage, riportando il culto degli idoli. La sua storia percorse come una scossa elettrica, come un fulmine tutto l'Islam e arrivò nelle grandi capitali, nei centri, nei grandi centri religiosi islamici, al Cairo, al Damasco, a Bagdad. E si cominciò a dire che egli era soprattutto uno stregone e il suo esercito era un esercito di demoni, di jinn, di ghoul, di esseri che per questo non erano, non era possibile combattere. A lui si fa risalire il Bobor. Il Bobor è la magia africana più oscura, è la magia nera per eccellenza, è la magia per immagini, è sempre una magia di morte, ha solamente questo fine qui e che da lui derivano i maghi soanti che sarebbero coloro che agiscono nei villaggi del Sahel. Pertanto la quarta torre è legata a una anomalia di carattere storico, perché la storia di Sonia lì è sicuramente anomala da tutti i punti di vista. Dunque troviamo anomalie di tipo antropologico, considerazioni di tipo religioso ed ora anomalie di carattere storico. Per trovare la quinta torre bisogna spostarsi, bisogna lasciare l'Africa e andare in Asia. Siamo nel Turkmenistan, uno stato semidesertico che ha una sua grande ricchezza nel petrolio e nel gas naturale. Il petrolio e il gas naturale dagli esoteristi sono considerati un simbolo del male. È la putrescenza della terra, è la decomposizione che dà queste sostanze che sono al tempo stesso estremamente distruttive e inquinanti. Non solo inquinano il territorio, inquinano uno il paesaggio, inquinano Gaia, ma inquinano anche l'uomo perché incutono in lui desiderio di rapina, di accumulo di denaro, di corruzione. Portano il male di mammona. Per questo la quinta torre del diavolo si trova da queste parti. Ed è come simbolizzata, cosa che Gaia non tra l'altro non sapeva, non poteva sapere, da due fatti catastrofici. Uno riguarda il lago Aral, il mare Aral, il lago più grande che mi fosse sulla superficie della terra e che per un progetto fasullo dell'Unione Sovietica, quello di irrigare i campi di cotone, è stato distrutto. In pratica nel 2007 l'Aral era ridotto a un decimo della sua superficie originaria. Ma non solamente questo. Dove prima vi era un lago, ora vi è un deserto con polveri sottili fortemente inquinanti che arrivano, quando soffiono i venti, fino alle pendici del Karakorum e che hanno provocato dei danni irreversibili a un numero incredibile di uomini, donne, di bambini. Un'altra cosa ancora. Sul lago Aral vi erano delle isole. Una di queste era l'isola di Vazio Sdemi. dove vi era un laboratorio sovietico per la guerra batteriologica e quel luogo è fortemente inquinato da una quantità enorme di antrace. In parte è stato vanificato con l'aiuto anche nordamericano, ma il pericolo praticamente rimane. E poi in questa terra, in Turkmenistan, si trova un'altra cosa. Vicino a Darbasa vi è la cosiddetta porta dell'inferno. Anche la porta dell'inferno, se si vede dai satelliti, se si vede dall'alto, è dovuta all'imprevidenza umana. Praticamente è il collassamento di un grande giacimento di metano. E per impedire guai maggiori, sempre gli ingegneri sovietici provarono, decisero di dargli fuoco pensando che di lì a qualche anno si sarebbe esolita. Ebbene questa fornace, questo occhio infernale, ancora brilla e brucia continuamente ormai di anni, ne sono passati tanti e poi tanti. È addirittura diventata un'attrattiva turistica. Anche qui l'impatto umano è dunque micidiale. Ma andiamo oltre. L'altra torre, la sesta, si troverebbe alle pendici delle Altai, in una terra particolare. Sono tante strette valli dilupate, coperte di boschi fittissimi. E da queste valli oscure e così selvose nasce il fiume Hob. Il fiume Hob nasce dalla confluenza di due fiumi che formano come una freccia che indica verso nord. Come mai questa terra è così particolare? Perché era una terra abitata dagli sciti. E gli sciti erano considerati una popolazione, dagli antichi, una popolazione rozza, barbara, dedita addirittura a sacrifici umani. Un popolo delle steppe che ogni tanto creava delle improvvisi assalti. Era un popolo anche di razziatori nei territori civilizzati. Ne seppero qualcosa i persiani degli sciti, ma anche i greci li ricordano con paura. E gli sciti furono poi identificati con il mitico popolo di Gog e Magog. Di Gog e Magog se ne parla in varie scritture, soprattutto nell'Apocalisse 22.9, i popoli di Gog e Magog. Ma nel Deuteronomio si parla di Og, un re gigante di Basan che fu ucciso da Mosè. E soprattutto se ne parla nel Corano, nella sura diciottesima, quella della caverna. Popolo di Gog e Magog è il popolo dell'anticristo, è il popolo della fine dei tempi, quello che a un certo punto si riverserà sui popoli civilizzati e porterà a morte e distruzione. Secondo un'antica leggenda, sempre di carattere islamico, questo popolo era stato rinchiuso da Alessandro Magno entro una valle che era stata chiusa da enormi porte di ferro, ma queste porte di ferro a un certo punto cadranno e inizierà l'invasione di questo popolo che segnerà la fine dei tempi. Dobbiamo dire anche un'altra cosa, che nella storia il popolo di Gog e Magog fu identificato, è stato identificato, siamo all'inizio del 200 con i mongoli, quando ci fu la famosa invasione mongola, il grande impero di Genghis Khan, Genghis Khan non arrivò in Europa, ma arrivò in Europa Batu Khan, che era praticamente un suo nipote. Apparve all'improvviso, durante l'inverno, dunque una stagione assolutamente imprevedibile per un'invasione da Est e distrusse tutto quello che trovava accanto. Questi cavaliari della steppa sembrava che non si potessero fermare, distruggono i principati russi, arrivano fino alla Polonia e poi alla fine arriveranno a specchiare i loro cavalli nelle acque dell'Adriatico. I clonisti medievali dicono che appunto è il popolo di Gog e Magog che ha superato le porte caspiche e che si sta rigettando sull'Europa come si legge nell'Apocalisse. La storia poi di questa invasione mongola è molto particolare, molto strana perché i mongoli arrivarono fino all'Adriatico e a un certo punto di incanto come erano venuti sparirono, ritornarono indietro e anche questo per gli occidentali fu una cosa inspiegabile. In realtà era morto il Gran Khan e ritornavano in Mongolia per eleggere un nuovo Gran Khan. Ma in questa zona alle pendici degli Altai vi è anche un'altra possibilità, un'altra causa diciamo di collegamento della nostra torre ed è un particolare tipo di sciamanesimo. Qui vi erano gli oiroti che molti dei quali praticavano i loro sciamani uno sciamanesimo della mano sinistra e si dice dunque uno sciamanesimo nero, uno sciamanesimo negativo perché lo sciamanesimo di solito ha una funzione terapeutica, ha una funzione positiva, non ha una funzione negativa. Questi no e si diceva anche che con loro vi erano i Kormos. I Kormos sarebbero dei demoni particolari provenienti dalla terra dei morti. Come dicevo, Lobb alle sue esorcenti forma una freccia, una freccia che indica il nord e indica praticamente la sua foce. Lobb infatti sfocia nel mare di Cara. Siamo nell'estremo nord, siamo praticamente in un ambiente di tundra, ghiacciato per gran parte dell'anno. Ora per alcuni popoli il nord rappresentava il dominio, la regione del male, la terra di Mordor, l'equivalente alla terra di Mordor. Perché? Perché dal nord veniva l'inverno, venivano i venti freddi, il gelo, soprattutto gli iranici, il mazdeismo c'è questa idea che Ariman abiti nel nord, perché sull'altipiano iranico d'inverno ci sono 20-25 gradi sotto zero, si muore di freddo, no? E queste tempeste di gelo venivano dal nord. Il nord dunque era la terra maledetta e lo era anche per, in un certo persenso, per gli ebrei che vedevano nel nord la terra infelice dell'avversario di Satana. questo è un aspetto. Il secondo aspetto, quello che spiega Génon, è che il nord rappresenta ciò che si è trasformato, ciò che è deviato, ciò che ha cambiato di segno. Perché per gli antichi il nord era la terra degli iperborei, dunque la terra della tradizione. Pitea di Marsiglia parla, ad esempio, dell'isola di Tule, l'isola felice, l'isola dove Apollo scendeva tra gli iperbori e dunque essendo protetti da questo grande Dio essi non conoscevano il male, era la terra senza male, non conoscevano la malattia, non conoscevano la miseria, morivano quando volevano loro, quando erano stanchi di vivere, si lasciavano andare, si lasciavano morire. Era quella la terra felice, la terra degli origini, ma poi tutto questo cambiò. Il male si insinuò all'interno e la terra della tradizione diventò la terra dell'antitradizione, la terra dell'anti-iniziazione e dunque del male perfetto. Queste sono le sette torri del diavolo come Guénon le ha collocate sul territorio. Una cosa particolare da dire è che unendole insieme sulla carta geografica con dei tratti essi disegnano praticamente un'immagine simile alla costellazione dell'orsa minore. L'orsa minore era considerata dagli antichi una costellazione in fausta. Pertolomeo, per esempio, aveva lo stesso valore di Marte, dunque indicava guerra, conflitti, divisione, morte, tutto ciò che di negativo vi può essere. E in Egitto gli egiziani chiamavano l'orsa il cane di sette e dunque l'associavano a questo dio malefico. Che non dice che poi ci sono altre terre oscure, ma di minore importanza. Città nere, tra le città nere gli pone naturalmente quelle che conosceva e dunque Ambersa, Lione, Praga, la città degli alchimisti. E poi ha una visione del tutto negativa delle Baleari, soprattutto di Minorca, chissà perché. Probabilmente perché a Minorca vi sono delle costruzioni estremamente antiche che era difficile attribuire a qualunque cultura, a qualunque civiltà. E poi anche per i colori di Minorca, perché ci sono queste gettate di roccia rossa, quasi sanguigna, e il verde cupo della vegetazione, fanno uno strano effetto. Forse sarà per questo. Tra l'altro il nostro Guénon ha una visione molto negativa anche di parte del Nuovo Mondo, ad esempio dalla California, che dice che sia una terra segnata dal male, come il Wyoming, ma lì è facile capire il perché, perché vi è questo cosiddetto altifiano del diablo, dove è stato girato anche incontri ravvicinati del terzo tipo. Un'ultima curiosità. Esiste una vera e propria torre del diablo, una torre che è chiamata torre del diablo e non è lontanissima. Si trova, esiste, la si può vedere, la si trova sul mare, sul Mediterraneo, proprio al confine, quasi sulla linea di confine fra Spagna e Francia. Si chiama la torre di Madeloc. Si trova su un'altura all'altezza di 652 metri. Madeloc sembra che derivi da un linguaggio locale e significhi cattivo luogo. Perché cattivo luogo? Prima di tutto perché la zona è funestata da fortissimi temporali con una caduta notevole di fulmini. D'altra parte è un rilievo abbastanza elevato che si trova proprio sulla superficie del mare. Dunque le masse d'aria umida alzandosi si condensano e formano praticamente nuvole temporaleste e questo è ovvio. Poi perché vi è uno strano effetto ottico per cui a sera si colora di rosso, sembra di un rosso sangue. E poi fra l'altro, ma questo non è del tutto verificato, perché si dice che su talune pietre vi siano degli stranissimi grafiti e inoltre su quella collina avvengono dei particolari fenomeni paranormali. Io direi che a questo punto si possa fare un'ultima considerazione. Da cosa deriva il mito? Ma sto andando troppo avanti Tiziana? No, no, va bene. Intanto pensavo a delle domande, ma tu poi andando avanti rispondi, quindi a giorno del mito. Allora, la prima cosa è questa. Da cosa deriva questo mito? È difficile stabilirlo, però alcuni elementi ci sono. Il primo elemento è il valore simbolico di torri e castelli, perché è la stessa cosa, che da una parte è estremamente attrattivo e da una parte estremamente repulsivo. La torre e il castello erano il luogo sicuro, un luogo di protezione, un luogo dove ci si poteva rifugiare in caso di pericolo, però erano anche il luogo del potere, delle prigioni, della corte di giustizia, che spesso e volentieri era ingiustizia e quando si veniva catturati dai birri e portati nelle segrete, spesso e volentieri non si vedeva più la luce. Pertanto la torre inviolabile, oscura, maestosa, che si staglia in mezzo al verde della vegetazione come un qualcosa di totalmente diverso provoca questo senso di paura e di oppressione. E lo si vede nelle favole, che in fin dei conti sono uno specchio dell'immaginario collettivo. Pensate alla bella addormentata nel bosco. Pensate a Barba Blu, mi direte ma Barba Blu non vive in un castello, sì è vero, vive in un palazzo borghese, ma tutte le caratteristiche del castello, come la stanzina segreta dove la povera sposina non può entrare, che ricorda molto la segreta di un castello. E poi pensate a tutta la letteratura gotica del Settecento, a Anna Radcliffe con i misteri di Udolfo, a Walpole con il castello di Otranto. Ma pensate anche al nostro Manzoni, i luoghi più oscuri nei promessi sposi quali sono? Il castello dell'innominato e il palazzotto di Don Rodrigo, che è un palazzotto ma ha tutte le caratteristiche del castello, tanto è vero che nella prima stesura Fermo e Lucia è chiamato Castellotto, è un castello anche quello. E poi c'è la letteratura gotica dell'Ottocento e qui i castelli si sprecano da William Polidori, il vampiro, fino a Sheridan Lefanu e Carmilla per arrivare al grande, al nostro grande Stoker con Dracula e il vampiro e questo castello perduto nei Carpazzi. Si potrebbe continuare con Biers, con Poe o Kafka, il castello, che poi non è un castello, è un paese, è un villaggio e sembra un posto tranquillissimo, monotono, quotidiano. Poi c'è solamente questa torre, un po' inquietante, non è una torre medievale, è una torre civica con tanto d'orologio, come ci sono in tanti paesotti e sparsi anche in Italia. E poi si rivela nel suo aspetto ferino e drammatico, tipico della narrazione di questo grande autore cieco. E potrei continuare con tantissime cose. Anche Howard, il padre di Conan, il barbaro, ha la torre dell'elefante dove vive il terribile mago Yara, oppure Wilson, la fortezza, un bellissimo romanzo gotico degli anni settanta, dello scorso secolo, con l'Ocraft. Anche lui non ha castelli, i suoi racconti sono ambientati negli Stati Uniti, nel New England e dunque i castelli non ce ne sono, però le sue case in stile vittoriano ricordano molto castelli con tutta questa quercia, impiallacciatura di quercia e immobili scuri che c'è all'interno, in queste finestre che si aprono sui boschi inquietanti del Connecticut e del Massachusetts. E dunque il castello e la torre già di per sé stesso sono un qualcosa di inquietante. Poi c'è qualcosa di più, c'è la torre maledetta per Antonomasia, la torre di Babele e questa bisogna prenderla, è un esempio, un simbolo del peccato di orgoglio e di blasfemia dell'uomo. Genesi 11, 1, 9 Babel o Babilonia, che poi sono la stessa cosa, significherebbe porta di Dio, ma potrebbe derivare anche dal nome Babel, che significherebbe confusione. Di fatti Dio per punire l'orgoglio dell'uomo cosa fece? Disperse l'umanità con la divisione delle lingue, così non intendendosi più non poterono proseguire nella costruzione, ma in altri libri, nel libro dei Giubilei, ad esempio, c'è scritto che la torre di Babele era volutamente una sfida contro Dio e Dio la distrusse, la battè. Da chi fu costruita la torre di Babele? Da Nimrod, figlio di Cus, potente fra i potenti, racconta la Bibbia, un uomo che fondò numerose città, fra le quali Assur e Ninive. Il suo nome per Genon deriverebbe dall'ebraico Nomar, che indica un predatore con il mantello maculato, dunque un leopardo. Per questo Nimrod sarebbe il vessillo di una società particolarmente aggressiva. La torre di Babele dunque è un peccato di presunzione, è un peccato di vanità, è un peccato di ribellione, tutto quello che volete e in più ha nella sua costruzione un altro valore fortemente negativo. La torre di Babele era costruita con mattoni. Ora, mentre per gli antichi la pietra era sacra, perché la pietra rappresentava praticamente il fuoco raggrumato, per pietra si pensava all'areolite, alla pietra che veniva dall'alto, alla pietra divina, il mattone era fatto con il fango, dunque con la melma, con il peggio del peggio e poi veniva usato, i mattoni venivano legati con il bitume, cioè con un materiale nero, con un materiale oscuro, con un materiale che anch'esso simboleggiava la decadenza. Un'ultima cosa, noi abbiamo un'immagine della torre di Babele, torre di Babele rotonda, circolare, che sale verso l'alto. Questa torre di Babele è dovuta a Brugel il vecchio, perché di poi torre di Babele se ne parla tanto, ma nei codici miniati medievali è una torre come tutte le altre. Brugel il vecchio fece questa torre particolare, rotonda, in costruzione, che sale verso l'alto ispirandosi a due monumenti che per lui erano l'esempio del male. Uno è il Colosseo, perché il Colosseo era il luogo dove venivano sacrificati i martiri cristiani e l'altra la torre, il minareto di Samarra, che rappresentava praticamente il nemico per eccellenza, cioè l'Islam, e costruì questa grande, questa torre che poi ha diventato un simbolo per tutto, iconologico per tutta l'arte successiva. Nel quadro di Brugel, che poi fra l'altro ne fece più di una copia, ce ne sono diverse versioni, come in tutti i pittori nordici il particolare è fondamentale. Si vedono gli operai che lavorano, si vede lo stesso Nimrud, però si vede già il caos, perché ognuno lavora a conto proprio, non c'è un gioco di squadra, c'è già il malseme della divisione e dunque del fallimento. Sto andando troppo oltre, però un'altra cosa ve la voglio ricordare. Un'altra leggenda alle basi delle torri del diavolo sicuramente sono i miti islamici sulla città maledetta, Irem delle Colonne. Irem sarebbe una città che fu costruita in una delle zone più anecumeniche che esista sul pianeta, il deserto Cremesi, che è quella zona addirittura ai cui i confini non sono ancora delimitati, che si trova tra Arabia Saudita e Yemen. Lì, in pieno deserto, Shedad, l'ultimo re di Had, avrebbe costruito una città che nelle sue intenzioni doveva essere più bella del paradiso terrestre, una vera e propria città di incanto. Chi ne parla, ne parla il Corano, la sura 89, detta anche la sura dell'Aurora. Ed è ripresa da tanta letteratura araba, ad esempio dalle Mille Onanotte, nella novella di Abdullah, il cammeliere. Il cammeliere che per ritrovare una rarissima cammella bianca si perde nel deserto e si trova di fronte a questa città completamente vuota e così meravigliosa. E nella novella di Zobeide, ad esempio. Una leggenda, una storia così affascinante che impressionò e influenzò anche il padre dell'horror fantasy del Novecento, Locraf, il quale racconta che nei pressi delle ruba alcali, il deserto cremesi, si sente delle volte sussurrare la voce di Ctulo, la voce degli antichi. Ecco, mi fermerei qui perché sennò porto qui tutto. Sennò ci fai tre, quattro puntate tutte insieme e poi dopo insomma andiamo molto avanti. Allora io ti ringrazio anche stasera per questo contributo ampio e ricco. Infatti una delle domande che mi era venuta in mente mentre parlavi era proprio questo utilizzo del simbolo della torre, perché abbiamo visto che le sette torri sono virtuali, quindi sono dei luoghi specifici che potevano essere associati e lui ha scelto proprio la torre che poi ritroviamo anche negli arcani maggiori dei tarocchi, sapendo se è un appassionato dei tarocchi. Poi magari ci verrà a parlare anche dei tarocchi, che ne pensi? Volentieri, è il sedicesimo arcano, la torre. Sedicesimo arcano. Le minchiate fiorentine è il quindicesimo perché c'è una figura femminile in me. Bene, faremo anche una puntata sui tarocchi. E poi ti volevo chiedere, abbiamo visto che queste sette torri replicano la costellazione dell'orsa minore. Secondo te è una coincidenza? Cioè sono state posizionate queste torri in base a degli elementi territoriali che sono dei miti, dei culti preesistenti? Poi non so se ci sono anche altri tratti comuni che tu hai potuto desumere sulla collocazione proprio di queste sette torri, oltre diciamo a quello che già ci ha detto. Ma poi escono fuori che sono coincidenti con l'orsa minore. Siccome sappiamo che l'uomo ha sempre ricercato un po', no, una corrispondenza con la volta celeste, ma è stata casuale questa corrispondenza? Oppure secondo te è stata quella che ha influenzato la scelta dei luoghi? Ma secondo me no, è abbastanza casuale la cosa. Non è che la scelta dei luoghi sia stata dettata dal voler ripetere sulla carta geografica l'orsa, anche perché per vedere la costellazione dell'orsa, se tu segni i vari punti, ci vuole un po' di fantasia. Prima di tutto è un'orsa praticamente, è una costellazione ribaltata e poi bisogna interpretarla come orsa, non è facile vederla da chito, non è come il segno della Vergine che unisce i centri gotici dedicati a Notre Dame, dove il disegno è molto chiaro, no? Qui è molto meno chiaro, questo sicuramente. È una coincidenza, una coincidenza notevole, che non su questo non si sofferma molto, sono stati i suoi esegeti che hanno notato questa coincidenza notevole. Io vedo un'orsa abbastanza bislacca, a dir la verità, da quello che ho potuto vedere io. Almeno che non si sposti in molto più a occidente, l'ultimo polo negativo, il che potrebbe anche essere, perché nelle Svalbard esiste una strana montagna che si chiama Piramide e che dette luogo a una città, che ora è una città fantasma, una delle più belle città fantasma che esiste sulla faccia della terra, Piramide, una città mineraria fondata dall'Unione Sovietica per sfruttare i campi di grandi giacimenti di carbone che lì vi erano. Naturalmente era un'impresa che dava pochissimi risultati, però loro vollero mostrare la capacità ingegneristica dell'Unione Sovietica, dello Stato socialista, riproducendo in piccolo anche degli aspetti di Mosca, con una piccola piazza rossa con tanto di monumento di Lenin, eccetera. E lì vicino sono accaduti dei fatti incredibili. Vi è, ad esempio, la famosa casetta svedese, uno dei misteri dell'Artico, ma di questo parleremo un'altra volta. Senti, quindi questi sette luoghi poi abbiamo visto in alcuni casi che hanno avuto un futuro nefasto, il prosciugamento del lago, quindi forse avuto un po' qualcosa di profetico l'individuazione di questi luoghi. Guarda, un carissimo amico, purtroppo scomparso alcuni anni fa, Marco Dolcetta, interpretò tutto questo in chiave geopolitica. Questi sono stati luoghi, fra l'altro, dove il sangue umano ne è stato versato a fiumi, veramente a fiumi. Te pensa solamente al Kurdistan iracheno, in quella zona è successo di tutto, sono state massacrate fino a tempi recentissimi al sultanato califato islamico, quante popolazioni. Gli ezedi sono stati decimati, sono stati eliminati in grandissima parte, cioè è successo veramente di tutto in taluna in zone. Sono fra le zone più calde del pianeta. e cosa dire del Sudan con una guerra intestina che forse ora è finita, ma è sempre una zona di grande instabilità. O il Mali, quell'altra zona del Sahel, che è una zona di guerra e di instabilità continua, questo di sicuro, per poi non parlare degli scempi ecologici che sono avvenuti in Kazakistan. Anche quella è una cosa evidente, con dei danni non solo economici, ma anche di salute per la popolazione notevolissima. C'è questa strana coincidenza, in effetti, fra la collocazione delle torri del diavolo e gli avvenimenti storici che sono avvenuti, anche dopo, perché Genon, quello che è avvenuto in Kurdistan, sapeva quello che era avvenuto al tempo degli assili, questo sì, ma non sapeva quello che sarebbe accaduto in seguito, come non sapeva del Mali, come non sapeva del Sudan, eccetera, eccetera, che c'è qualcosa di particolare. Questo è ancora più inquietante perché insomma ci dà un messaggio. Parliamo di torri del diavolo che poi si rivelano torri dell'uomo che ha, diciamo, la torre del diavolo diventa un po' l'azione umana, oscura, dei fatti della storia, no? Si sovrappone questo mito del diavolo con episodi messi in atto dall'uomo, quindi riscempi ecologici, le guerre, il sangue versato. E allora io ti faccio l'ultima domanda prima di chiudere. La storia è ciclica, ci sono sempre tempi difficili, poi magari c'è sempre un nuovo rinascimento, si parla spesso della fine dei tempi, ricorre sempre questa cosa della fine dei tempi. Poi in effetti nel corso della storia c'è stato forse più di una volta un anno zero da dove si è ripartiti. Queste torri del diavolo alla società di oggi possono dare un messaggio? Quale messaggio secondo te potrebbero dare? Il messaggio che devono dare è che tutto quello che è negativo non viene mai debellato dall'umanità, c'è sempre entri. Ci sono periodi più felici per alcuni e meno per altri, però momenti di maggiore tranquillità e momenti di minore tranquillità. Però anche quando viviamo nell'opulenza, in un'apparente serenità, bisogna pensare che queste forze oscure, quelle forze oscure che sono insiste nell'uomo, possono ritornare a galla da un momento all'altro. L'uomo non conquista mai alcuna posizione e quando arriva a conquistare qualche posizione la deve dipendere. Non vi è mai un qualcosa di acquisito per sempre. Anche la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, sono dei valori che sembrano incontestabili, ma per rimanere tali devono essere continuamente difesi altrimenti li perdiamo. Sono perfettamente d'accordo con te e su questa bella riflessione chiudiamo la puntata di stasera e ci rivediamo molto presto, sempre con Luigi Pruneti, parleremo del sostizio invernale del Natale e anche dei tarocchi, però forse più in là. Comunque già ti prenotiamo anche per i tarocchi, eh? Grazie per la partecipazione. Grazie a te Tiziana, buonasera a tutti.